Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti e ben ritrovati qua nel solito, usuale, disordine della mia libreria. Allora, altro video dedicato alle Wunderwaffen, video in questo caso dedicato a un progetto a dir poco fantascientifico. Perché? Perché parliamo del cosiddetto Silberwögel, l'uccello d'argento, ovvero sia l'aereo spazioplano inventato da Sanger come bombardiere orbitale o suborbitale per colpire i territori nemici senza il rischio di essere intercettati. Allora, 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 il Silberwögel sarebbe questo qua, eccolo qui, questo, eccolo qui, rappresentato sulla sua rampa di lancio con il booster, con il razzo che lo avrebbe fatto decollare. Eccolo qui, il Silberwögel sarebbe questo qua. Praticamente avrebbe dovuto decollare, effettuare una serie di giri orbitali rimbalzando, come sugli strati atmosferici, come un sassolino, come un sasso piatto lanciato sull'acqua, eccetera, eccetera, così. Qua c'è anche un disegno dello schema, eccolo, questo qui. La fonte è Aerei nella storia, lo speciale Aerei nella storia di gennaio 2004, dedicato ai progetti segreti tedeschi. Dicevo, il Silberwögel, eccone anche un altro disegno, nacque da un'idea quantomeno balorda. Allora, nel 1933 furono iniziati degli esperimenti con il cosiddetto Razzo Madgeburg, che, sponsorizzato dalla banca dell'omonima città, avrebbe dovuto sperimentare e provare le teorie della cosiddetta Hall-Welt-Leher, spero di averlo pronunciato bene perché il mio tedesco fa cagare, la cosiddetta teoria della terra cava di Peter Bender. Allora, chi era sto Bender? Sto Bender era un personaggio, uno pseudoscienziato, diciamo così, uno di quei personaggi che proliferavano allegramente e prosperavano nel regime nazista. Un uomo che pensava che la cosmologia copernicana fosse errata e sosteneva che la razza umana vivesse all'interno di una sfera cava contenente l'intero universo conosciuto. Secondo questo personaggio, altro che la terra piatta, cioè al confronto i terra piattisti sono dei geni, lasciamo stare, dicevo, questa teoria della terra cava avrebbe dovuto essere provata da questo razzo cosiddetto Magdeburg perché secondo Bender un razzo lanciato verso il cielo avrebbe quindi dovuto raggiungere mantenendo una traiettoria rettilinea gli antipodi e furono fatte alcune prove con razzi in scala, in scala ridotta, alcuni modellini, finirono queste prove in modo disastroso oibo e i ricercatori si scoraggiarono facendo naufragare il progetto. è per dire. Però, come dire, assieme a tutta un'altra serie di convinzioni sviluppate autonomamente o mutuate, rimasticate, riprese, cioè sapete bene come ragionavano i tedeschi quando si trattava di costruirsi mitologie per i cavoli loro, dicevo, convinzioni ripescate da altre culture e la teoria della terracava rappresentò il pretesto per cominciare a sviluppare velivoli spaziali con equipaggio e questa teoria della terracava rimase sempre ben presente nella testa dei tedeschi, dei nazisti, scusate. L'ingegnere Sanger che, come dire, fu l'inventore, insomma il progettista del Silberwegel, ripeto, eccolo qua, questo è un modellino per la Galleria del Vento, dicevo, l'inventore del Silberwegel era uno che tutto sommato se ne fregava allegramente delle teorie sulla terracava perché, come dire, la sua idea non era tanto il sovvertire l'astronomia copernicana ma cercava piuttosto il modo di realizzare un bombardiere in grado di colpire a grande distanza dalla propria base diventando, come dire, un cosiddetto bombardiere non tanto strategico quanto antipodico, ovvero sia un bombardiere in grado di colpire ovunque, anche agli antipodi. Allora, il Silberwegel era un programma estremamente avanzato per la sua epoca, poco ma sicuro. Si trattava di un aereo spazio plano ipersonico a singolo stadio orbitale che avrebbe dovuto essere spinto da motori a razzo alimentati da una miscela di petrolio e ossigeno liquido in grado di volare a velocità attorno a Mach 10 ma ci sono anche indicazioni che parlano di Mach 20,8 e di altitudine variamente indicate e comprese tra i 59 e i 300 chilometri. Si trattava di una concezione che per il 1933 era assolutamente inconcepibile e futurista. e anticipava questo sì di oltre 30 anni il concetto di Space Shuttle ovvero sia un veicolo spaziale riutilizzabile e non a perdere. Allora, Sanger nel 1938 aveva sviluppato il proprio bureau, il proprio ufficio tecnico di sviluppo e con la collaborazione della moglie Irene Brand offrì il progetto del Silberwögel al Ministero della Difesa austriaco perché ancora non c'era stato l'Anschluss e il suo modello per come dire galleria del vento quello che avete visto prima cioè praticamente ecco ve lo rifaccio vedere questo qua eccolo il modello del Silberwögel per galleria del vento questo qua dicevo fu sviluppato nell'unica galleria del vento supersonica presente nella Germania degli anni 30 ed era come dire un progetto avanzatissimo cabina pressurizzata profili alari rivoluzionari eccetera 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 praticamente avrebbe dovuto essere un ibrido tra un aereo e uno shuttle nella sua missione tipica ideata da Sanger avrebbe dovuto decollare tramite la slitta a razzo che vi ho fatto vedere prima che praticamente eccola ve la rifaccio vedere questa qua ecco tramite questa slitta a razzo avrebbe dovuto decollare e e praticamente questa slitta a razzo fissata a una monolotaia avrebbe dovuto raggiungere l'altitudine operativa con una traiettoria quasi balistica praticamente a proiettile dopo aver spento i motori prima di raggiungere una velocità orbitale avrebbe dovuto uscire dall'atmosfera per muoversi su di essa come un sasso lanciato sulla superficie di uno stagno come ho detto prima svolto il bombardamento avrebbe dovuto proseguire attorno al globo terrestre fino fino al momento di tornare alla propria base per atterrare allora io che vi devo dire cioè l'idea è quella che è questo sarebbe praticamente un progetto eccolo del Silberfögel cioè anni 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 di studio di risorse eccetera 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 sprecati per cosa? per un'idea che tuttora è realizzabile teoricamente potrebbe essere anche realizzabile o sfruttabile l'idea dello space shuttle non è poi molto distante da quella dell'aerospazioplano di Sanger del Silberfögel ma ma con quale tecnologia avrebbe dovuto rientrare nell'atmosfera questo 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 aereo cioè l'idea era troppo avanzata sicuramente per i tempi una delle tante Wunderwaffen si giunse soltanto cioè rendiamoci conto anni di studi di pianificazione di progetti per cosa? per ottenere soltanto un modellino per la galleria del vento eccolo qui e questa foto che vedete una delle tante foto che si trovano sui siti cosiddetti Luft 46 quelli che trattano delle Wunderwaffen quelle che parlano delle armi meraviglia così c'è questa questo sarebbe stato il Silberfögel in volo questo ma in realtà il Silberfögel non volò mai non fu mai neanche provato perché provate a indovinare era una cosa troppo avanzata per la tecnologia dell'epoca ed era soprattutto un'idea spaventosamente costosa spaventosamente come dire impegnativa e soprattutto spaventosamente campata in aria per i mezzi tecnologici dell'epoca evidentemente il signor Sanger non è che avesse una gran voglia di finire al fronte russo diciamoci la verità quindi cari signori l'ennesima Wunderwaffe il Silberfögel eccolo qua in uno spaccato l'aereo spazio plano dell'ingegner Sanger una delle tante idee una delle tante trovate una delle tante armi meravigliose che in realtà di meraviglioso aveva soltanto la capacità di abbindolare i più fessi tra i gerarchi nazisti che volevano fare bella figura con Hitler con queste straordinarie trovate col risultato però lo sapete bene e l'ho detto più di una volta di sprecare tempo soldi e fatica per niente tutto qua quindi cari signori io vi ringrazio per l'attenzione e come sempre arrivederci al mio prossimo video buona serata